Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Trafficò il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, riduzione di carreggiata per lavori tra Colle Valdelsa Sud e Colle Valdelsa Nord in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle, scambio di carreggiata per lavori tra Rigomagno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione del raccordo Siena. Sulla statale 1 Aurelia, senso unico alternato per lavori tra Stagno e Pisa. Sulla statale 3 Bis, Tiberina, riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Madonnuccia, Poggiolino e Sansepolcro Nord in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!